E vabbè Ciccio Gamer Contro Blur Chi di due ha prodotto la galletta migliore con Alex Theory? Andiamolo a scoprire Ho visto le foto su Instagram, sono illegali Quanto cazzo pesa Non c'è storia Andiamo all'assaggio C'è la nocciola intera qua raga È letteralmente invasa di Nutella Ma passiamo a quelle di Blur Galletta srogo E vabbè Due gallette ricoperte insieme Andiamola a provare Ci sta un botto di Nutella dentro raga Queste due Sono troppo buone Impossibile che non lo siano ok Voglio dare almeno un 9 ad entrambi raga Sono illegali veramente